Grazie a tutti. Prisma sta per Prato Industrial Smart Accelerator ed è un progetto per la creazione di un'infrastruttura di trasferimento tecnologico, quindi dovrebbe funzionare da ponte fra l'università, fra i laboratori universitari, centri di ricerca e le imprese del distretto ed è un progetto che ha un respiro abbastanza ampio di quattro anni a partire dal 2021. I partner sono DINFO, quindi il Dipartimento di Ingegneria della Formazione dell'Università di Firenze, il PIN, il CNR, l'Istituto di Ottica Nazionale, Nazionale di Ottica, abbiamo poi altri partner, Tecno Tessile, Next Technology e poi altri partner, diciamo, più tecnici tipo Estracom e anche Sviluppo Toscana. Non che Nanna Bianca, Startup Italia, che seguirà il programma di accedenza di Startup. Nell'ambito di Prisma prevediamo di realizzare progetti congiunti fra università e imprese del distretto, per cui diciamo che tutti questi seminari che stiamo facendo sono propedeutici appunto per la messa a fuoco di idee progettuali anche. Devono servire quindi da una parte a creare un linguaggio comune e una serie di competenze anche nelle imprese che tante volte ci sono, ma per sentito dire, a meno che uno non si focalizzi su quell'ambito specifico. Per ampliare la visione, quindi diciamo il panorama di possibili soluzioni tecnologiche per le imprese, visto che questo programma è anche molto bello e molto ambizioso, come potete vedere, che andrà avanti per tutto giugno e a seguito di questi seminari poi verrà lanciato anche un bando in cui le imprese si potranno mettere insieme ai laboratori Prisma sulle varie tecnologie e per poter appunto realizzare progetti e soluzioni applicate al manifatturiero. Quindi diciamo tutto serve in quanto da ogni ambito tecnologico possono venire idee di innovazione da applicare negli ambiti più diversi della filiera. Quindi oggi partiamo con tecnologie 5G e scenari applicativi e quindi un quanto mai attuale con il professor Tommaso Pecorella appunto di DINFO e poi andremo avanti, ora non vi faccio vedere tutto il programma per tutto giugno, comunque il prossimo incontro sarà il 15 giugno con il dottor Jacopo Catani che ci parlerà degli scenari applicativi, delle comunicazioni ottiche wireless e a luce visibile e così via, intelligenza artificiale eccetera. Una serie di seminari probabilmente che non sono mai stati fatti, io credo anche a livello, non vorrei dire sicuramente non pretese, ma anche vorrei azzardare anche così in maniera così organica neanche a livello regionale e quindi forse anche nazionale. Quindi approfittiamo di queste preziose conoscenze che ci vengono dal mondo della ricerca e dell'accademico perché appunto è il mondo che resta più aggiornato rispetto a questi scenari e facciamone il miglior uso possibile. Io cesso la condivisione dello schermo e passo la parola al professor Pecorella. Sì, buongiorno, io, fatemi vedere se riesco a fare la condivisione io della mia roba senza condividervi cose strane. Vedete? Sì. Perfetto. Può essere messo anche a schermo pieno, se vuoi. Sì, 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 ora 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 non ce le provo come si solda. Vediamo se l'ha preso, ho lo schermo completamente nero. Wow. Dovrebbe, dovrebbe esserci. Un po' piccolo. Sì, fatemi, allora, fatemi vedere se riesco a toglierlo, a togliere lo schermo intero. Ah, Gesù dal cuore acceso, lo sapevo io. Stop sharing. Un attimo. Tecnologia. PowerPoint. Non gli piace il fatto che io abbia due schermi. Ecco qual è il problema. Per cui, quando metta schermo pieno, pensa di dover usare lo schermo secondario che è molto più piccolo. No, non metterà schermo pieno, allora, Tommaso, guarda. No, no, ho staccato il secondo schermo. Qual è il problema? Benissimo. Ora devo soltanto ridirgli di prendere PowerPoint, perché ovviamente adesso non vede più PowerPoint. No, lo vede. Ecco. Ora lo rivedete. E adesso dovrebbe riuscire ad andare a schermo pieno. Ok. Ora dovrebbe funzionare. Benissimo, si vede benissimo. Allora, quando arriva l'assessore, io mi interrompo e le lascio la parola, perché immagino che avrà poco tempo, e quindi è bene sentire le sue salute. Quindi se non vedo che entra, semplicemente fatemi un fischio. Sì, sì, ma probabilmente farà alla conclusione, se arriva, perché è già impegnata, appunto, arriverà più tardi. Perfetto. Benissimo. Allora, prima di cominciare, io volevo fare una richiesta per gli uditori, nel senso, da dove arrivate? L'unico che so chi è, perché c'è scritto SSSPA, è la ex Sirius Sistemi Elettronici, che non mi ricordo mai invece adesso come si chiama. Vorrei sapere da chi c'è, in quali ambiti industriali operano. Beh, allora, io sono Simone Vassili, chiesa informatica, lavoro nell'ambito dell'assistenza a primo livello sulle piattaforme PC, assistenza a livello server, server web, server di posta, server gestionali, e gestione di reti. Insomma, ecco, insomma, un po' una carrellata di tutto, più o meno quello che si fa. Grazie. Questo è quanto. Next. Io sono Emanuele Barni, lavoro in un'azienda tessile e sono un curioso. Bene. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Sabatini, lavoro al CNR, al Polo Scientifico, all'Istituto di Bioeconomia. Probabilmente alcuni dei miei colleghi possono aver preso parte a una fase iniziale del progetto Prisma. Io in particolare mi occupo dell'ufficio IT e quindi ero interessato a seguire a che punto siamo arrivati e dove stiamo andando. Perfetto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Concas, sono un tecnico elettronico dell'ENS, dell'Università di Firenze. Partecipo a questo seminario per, insomma, aggiornarmi un po' sulle attuali tecnologie. Ok, allora, 5G e scenari applicativi del 5G. E se possono essere utili, la risposta ovviamente è sì, spoiler, per il tessuto industriale, lasciatemi questo pun, come si dicono gli inglesi, pratesi, ma non solo, ovviamente. Eh, allora, prima di tutto cos'è Prisma? Eh, l'abbiamo già sentito, ce l'hanno già detto. Progetto nazionale, progetto nazionale, rientra nell'ambito dei progetti nazionali per le case delle tecnologie emergenti. Eh, quindi dobbiamo occuparci, dobbiamo, ci occupiamo di, eh, trasferimento delle tecnologie emergenti al, eh, all'ambito, eh, industriale e produttivo. Questi sono i partner del progetto, eh, comune, ministero, il fondo per lo sviluppo e la coesione, ovviamente, CNRI, Estracom, Next Technology, Università di Firenze, DINFO, Startup Italia, Sviluppo Toscana e il PIN. Eh, cosa vogliamo fare, o meglio, qual è lo scopo primario del progetto? Eh, sostanzialmente non studiare le nuove tecnologie, quello lo facciamo normalmente. Eh, il problema è tentare di applicarle a qualcosa di utilizzabile dalle aziende. Quindi, eh, analisi dei bisogni del, delle aziende, eh, studio di soluzioni ad hoc e, eh, sostanzialmente produzione, preproduzione di soluzioni tecnologiche che siano applicabili. Questo è un, abbastanza importante dal punto di vista del, eh, stiamo registrando a proposito. Comune? Sì, sì, stiamo registrando. Perfetto. No, perché non avevo visto il pallino rosso. Mmh, ma la mia interfaccia è abbastanza limitata in questo momento. Eh, stavo dicendo, non soltanto studio teorico delle nuove tecnologie, ma studio applicato delle nuove tecnologie. Quindi, stiamo parlando di tecnologie emergenti, ma, eh, non stiamo parlando di tecnologie che, eh, sono soltanto sulla carta. Eh, quali sono queste tecnologie emergenti? Queste sono state individuate a livello nazionale dal Ministero e, eh, principalmente, eh, si, eh, sono tre assi più uno. Perché dico tre assi più uno? Perché abbiamo l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, la blockchain come assi portanti, e le comunicazioni 5G come elemento pervasivo, che, eh, è un, eh, una tecnologia che, eh, è, eh, sia, eh, di interesse nostro, sia dell'al, delle altre, eh, degli altri organismi che sono stati finanziati dal Ministero, che sono i centri di competenza 5G. Ce n'è anche uno a Prato. Eh, i laboratori di Prisma, eh, sono tre principalmente, uno sull'Internet of Things, uno sul 5G e intelligenza artificiale, e uno sul blockchain. Su questo vorrei mettere, eh, in luce, eh, in luce, mettere l'attenzione su una cosa. Sono tre laboratori, ma non sono tre laboratori distinti. Sono tre laboratori altamente integrati. Nel senso, non vedete il, eh, i laboratori, di Prisma come tre soggetti diversi, vedete i laboratori di Prisma come i laboratori di Prisma, soggetto unico, eh, perché tanto ci conosciamo, eh, la gente che lavora in questi laboratori, lavora a stretto contatto, eh, e ha a contatto di gomito praticamente ormai da anni. Quindi, sono tre, ma, eh, ci muoviamo come un'entità abbastanza unica. Quindi, e questo forse è un punto di forza del progetto, eh, le tecnologie che noi andiamo a studiare e a proporre sono sempre tecnologie, eh, che tengono conto di tutti gli aspetti che possono essere interessanti per una soluzione. Ora, oggi parliamo in particolare di 5G. Dove siamo? Chiede e, eh, soprattutto, se, eh, se ci serve. E se ci serve, quando sarà disponibile alla, alla, alla fruizione in maniera efficace. Ora, senza voler fare la storia del 5G e del 4G, però sostanzialmente sappiamo tutti perfettamente che negli ultimi trent'anni sostanzialmente il, eh, le tecnologie cellulari sono andate avanti per G, cioè, per generazioni, con, grosso modo, una generazione ogni dieci anni. Avevamo prima il 1G, che forse non si chiamava neanche 1G, è il vecchio TAX, eh, ancora analogico, dopodiché siamo andati sul, eh, sul settore digitale 2G, 3G, 4G, 5G. Ora, lasciatemi mettere in evidenza una, eh, diciamo, un fattore evolutivo storico. Se uno guarda per bene come è evoluta la tecnologia 5G, la tecnologia 5G, la tecnologia G, 2G, 3G, 4G, eccetera, ci accorgiamo che le tecnologie XG sono sempre state, eh, caratterizzate da un'evoluzione basata su una previsione da parte delle aziende di telecomunicazioni, poi riportate negli organismi di standardizzazione e quindi poi incarnate nella next generation, eh, di cosa? Di una previsione di mercato, cioè di una previsione di utilizzo, di necessità di utilizzo della tecnologia da parte degli utenti. Eh, per cui, per esempio, nel 2G sostanzialmente il, eh, la parte di trasmissione dati, era quasi assente, perché? Perché negli anni novanta sostanzialmente le aziende di telecomunicazioni non credevano che internet fosse una fonte di revenue. Eh, la fonte di guadagno per le aziende di telecomunicazioni erano ancora le telefonate e gli SMS. Poi ci si sposta sul 3G dove ancora stranamente le comunicazioni dati paiono non essere, non fare la parte del leone. Se qualcuno si ricorda l'introduzione del 3G, eh, il, il, il mantra delle aziende di telecomunicazioni era potete fare la telefonata, la videotelefonata ai vostri nipoti. Ehm, il 4G dove finalmente si capisce che il, eh, la fonte di revenue sono i dati, quindi 4G sposta già tutto quanto sulla trasmissione dati al punto tale che, eh, pochi se ne sono accorti, pochi se ne rendono conto, ma le telefonate in 4G in realtà non sono più telefonate voce, sono telefonate dati che poi vengono usate in forma, eh, cioè trasportano dati vocali, ma sono, è telefonia dati, non è più telefonia, eh, a circuito, vecchio stampo, è telefonia a pacchetto, molto più, è molto, anzi non è molto più simile, è voice over IP. Ehm, e il 5G. Adesso abbiamo il 5G. Quindi la domanda che uno si dovrebbe porre sul 5G è, è target di mercato ha il 5G, non cosa ci offre, perché se uno semplicemente guarda le pubblicità allo stato attuale del 5G, probabilmente sbaglia target, cioè non lo capisce. Perché questo non lo capisce? Se uno va a domandarsi, il 4G, come viene chiamato in maniera, in termine, eh, in termini, eh, chiamiamolo così, da, 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 da utente, l'LTE è 4G? Sì o no? La risposta è no. L'LTE non è 4G. L'LTE Advanced è 4G. L'LTE è 3G e mezzo. Cioè, quando noi riceviamo una tecnologia dalle compagnie di telecomunicazioni, in realtà dobbiamo ricordarci che oramai, a partire dal 4G in poi, sono quelli che si chiamano roll-out incrementali. Cioè, quello che noi riceviamo come tecnologia, i servizi che riceviamo sulla tecnologia, non sono quelli che, sono tutti quelli che sono previsti dallo standard. Sono quelli inizialmente abilitabili dallo standard, ma poi si va avanti e si aprono nuove possibilità col passare del tempo. Ora, perché abbiamo il 5G e non siamo rimasti al 4G? Beh, la risposta è ovvia. Potrei dire una cosa poco urbana, ma visto che siamo in registrazione, non la dirò. La risposta è perché il 4G è limitato. È limitato, in realtà, non in tutto, perché bene o male, noi facciamo telefonate, andiamo in internet, guardiamo i gattini su Facebook con il 4G. No, funziona. Funziona, ma non per tutto. Nel senso, se uno guarda l'LTE, aliasi 4G, abbiamo delle latenze di trasmissione, non end-to-end, attenzione, che quelle dipendono poi da tutto il resto di internet. Stiamo parlando delle latenze all'interno della rete LTE. Cioè, dal mio terminale fino al punto di uscita verso internet o dal mio terminale ad altri terminali LTE. E queste sono dell'ordine sui dei 30-50 millisecondi, che non sono tanto, anzi, è molto poco, ma non per tutte le applicazioni. Per alcune applicazioni è troppo. banda, velocità, quella che normalmente da utenti stupidi siamo abituati a guardare se la rete è meglio o peggio, si va sulla sua quantità. 100 megabit al secondo. 100 megabit al secondo è tanto, ma non è tantissimo. se uno vuole fare delle applicazioni particolari, tipo realtà virtuale, 100 megabit al secondo non sono abbastanza. Quantità di connessioni, anche queste. 10.000 connessioni per chilometro quadrato. Sono sufficienti? Beh, per un traffico e un utilizzo di persone? Sì, certamente. Quanti vogliamo essere? Non è che stiamo uno sull'altro, tipo impilati. Ma se dobbiamo fare traffico machine, 10.000 connessioni a chilometro quadrato cominciano a diventare poche. velocità. L'LTE in teoria funziona fino a 350 km all'ora. Ho da vederlo. Pare che sia poco. Per i treni ad alta velocità serve almeno 500 km all'ora. Ok, su questo stendiamo un pietoso velo perché tanto poi uno entra in galleria e non prende nulla. Ma questo è un altro paio di mani. Ultimo, ma non ultimo, una cosa che è molto tecnologica, molto interna alla rete, si chiama network slicing ed è l'architettura della rete, non della rete internet, della rete 5G o della rete diciamo della core network. Ora, in questi anni si è parlato tanto di virtualizzazione della core network. La core network è quella parte di rete che serve a serve a gestire e fare andare avanti la rete 5G. anche il 4G ovviamente. La rete del 4G, la rete di funzionamento del 4G è molto inflessibile, funziona bene ma è molto rigida. Cosa significa questo? Significa che a livello di operatore è piuttosto complicato e anche poco efficiente fare quelli che si chiamano i mobile virtual network operator, l'MVNO. è possibile, siamo pieni di mobile network virtual operator, diciamo, ce ne abbiamo bizzeffe, ma se uno li guarda non sono tantissimi, si contano sulle dita di due mani a livello nazionale, inoltre sono tutte operazioni piuttosto rigide all'interno della rete e non ti danno la possibilità di fare molti giochi tra virgolette con la rete stessa. Ecco, i5G si butta sulla possibilità di virtualizzare completamente tutta la rete e di fare quello di cui parleremo tra poco. Voi mi dovete scusare un secondo, ho una telefonata, un attimo soltanto. Sì, un attimo falso allarme scusa allora questi sono gli obiettivi macro obiettivi del 5g quindi miglioramento latenza miglioramento della banda miglioramento del numero di connessioni nel sistema aumento della mobilità del dell'utente e cambio della network architecture che ripeto sembra una questione interna ma non lo è assolutamente notare che alcuni di questi obiettivi ovviamente fanno a cazzotti l'uno con l'altro nel senso gestire altissima mobilità a a con bande estremamente elevate è un obiettivo in in sotto caso che non vanno molto d'accordo ora sui servizi qua bisogna spendere tre parole importanti perché è questo quello di che dicevamo prima quali sono i servizi target del 5g dov'è che qual è il mercato del 5g sostanzialmente a parte tutti i mercati che già sono coperti dal 4g quindi dall'lte advanced ora se uno va a guardare le possibilità di incremento di mercato dell'lte advanced sono relativamente basse abbiamo già dato almeno due cellulari a tutti quanti non è che ne possiamo vendere tanti di più la gente sta al cellulare oramai anche troppo non è che possiamo pensare che stiamo a cellulare ancora di più le reti fisse non verranno soppiantate ancora di più dai cellulari non è quello l'obiettivo no il 5g si apre a tre segmenti di mercato che sono estremamente rilevanti per noi per questa discussione di oggi perché sono le le han said mobile broadband e potrebbe interessarci forse sì forse no ma soprattutto l'url lc l'ultra reliable low latency e il massive machine type communication questi sono i tre pilastri di servizi innovativi che il 5g vuole offrire e che il 4g non supporta neanche per scherzo bene ora cosa sono questi tre servizi cosa sono questi tre opportunità di mercato perché dobbiamo vederlo da quel punto di vista come opportunità di utilizzo di una rete tale che nel 4g forse ci riuscivo ma non bene nel 5g ci riesco bene quindi il 5g come enabler per delle soluzioni che sono supportate perché i 5g le supporta il mobile broadband è trasmissione in broadcast ok quindi tutti quei casi in cui abbiamo bisogno di altissima banda per trasmissioni video tipicamente video potrebbe anche essere audio ma l'audio non è così critico per la quantità di dati quindi trasmissioni tipicamente video potrebbero essere anche anzi sicuramente lo sono realtà virtuale in broadcast per far funzionare bene le mmb inteso come funzionare bene come tipologia di target dobbiamo però avere un'altra con un'altra concentrazione di utenti per cella e questo è un pochino strano quindi stiamo parlando di tipicamente questi tipologie di utilizzo telepresenza video internet attile video streaming ma soprattutto video streaming su concentrazioni altissime di utenti per esempio eh eventi sportivi o eventi musicali voi pensate un evento musicale in cui il eh gli utenti al posto che ascoltare la musica che che viene data sugli altoparlanti eh giganteschi se ascolta in cuffia è tutta lì a ballare in cuffia oppure eventi sportivi oramai siamo abituati in megastadi uno va al megastadio vede gli omini microscopici ecco gli viene dato anche il tablet per cui vede il le azioni e il 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 campo con il tablet ovviamente abbiamo anche la virtual reality quindi farne da padrona e il broadband fiber to the home però attenzione broadband fiber to the home è un caso molto particolare nel senso che l'enhanced mobile broadband sì mi dà una quantità di banda enorme ma almeno al mio punto di vista il il fiber to il il broadband to the home non è la eh il la 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 eh lo use case principe notare che sono tutti casi in cui sostanzialmente abbiamo un altissimo numero di dati in download cioè tanti dati ricevute dall'utente il numero di dati ovviamente in upload è comunque rilevante ma eh si punta tanto sulla quantità di eh dati e ovviamente sulla eh sulla latenza in download gli altri due casi sono l'ultra reliable latency ora l'ultra reliable latency va a braccetto con quello che si era visto prima con la latenza cioè con i tempi di risposta tra eh della rete tra il terminale e la rete stessa abbiamo visto che col 4g avevamo sui trenta e cinquanta millisecondi pochi ma non abbastanza bassi per eh abilitare il controllo industriale l'ultra reliable latency serve per il controllo industriale cioè per l'industria l'IoT oppure per sistemi a eh altissima resilienza e sistemi critici quindi allarmi con tempi di reazione inferiori ai dieci millisecondi questo è critico perché se vogliamo abilitare veicoli autonomi eh autonomous driving industrial automation tutti i tipi di industrial automation tutti i tipi di industrial IoT dobbiamo avere delle latenze che sono inferiori ai dieci millisecondi attenzione perché non è soltanto low latency è ultra reliable low latency il che significa che abbiamo non soltanto una latenza praticamente inesistente ma abbiamo una garanzia di consegna dei dati superiore al novantanove virgola nove per cento dei pacchetti inviati eh il che significa che sostanzialmente possiamo essere sicuri che quello che inviamo allarmi o eh messaggi di controllo arriva e arriva velocemente in questo caso andiamo però a ehm diciamo così dimenticarci la quantità la banda l'ultra reliable low latency non è fatto per trasmettere grandi quantità di dati fatto per trasmettere poche quantità di dati ma estremamente velocemente e con la eh reliability estremamente alta use case tipici appunto veicoli autonomi e su questo ci sarebbe da eh fare un un caveat perché si sta parlando di veicoli autonomi però che stiano si stiano muovendo all'interno di una rete in cui ho sicuramente la copertura 5G adatta a questo tipo di eh comunicazione ultra reliable low latency non stiamo parlando di veicoli autonomi che si muovono tra Milano e Napoli stiamo parlando di veicoli autonomi che si muovono in ambito cittadino o in ambito di un distretto industriale dove sono sicuro che la copertura è stabile eh robotica robotica anche anche remotizzata tipo ehm i health robotica di health il il robot che eh il eh che viene operato in sala operatoria eh energy smart grid anche in questi casi perché perché abbiamo bisogno di tempi di risposta per il gli eventi avversi o comunque per il contro è tipicamente controllo industriale tutta la parte di automazione industriale aviazione ovviamente l'aviazione ritorna nella nella eh aviazione sta parlando di droni eh non di aerei che eh passeggeri ma tutta quella parte di ehm di droni autonomi e di droni a a a guida semi autonoma quindi sta parlando di roba simile all'automazione all'autonomous vehicles e ovviamente tutta la parte di me e di 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 e-health che appunto ha bisogno di una comunicazione eh veloce quindi non stiamo parlando dell'e-health il sensore di eh pressione eh di pressione di 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 sì pressione sanguigna che uno mette al polso del malato e e per mandarlo a casa ma eh dei ehm delle delle macchine eh delle macchine eh delle macchine di tutti quei sistemi di health che hanno bisogno di un feedback estremamente veloce dal parte della eh del del della ricordiamoci assolutamente che stiamo parlando però eh di eh sistemi quando noi si dice ultra reliable latency si sta parlando di velocità bande eh e ehm e eh e latenze all'interno della rete 5G ovviamente appena uno va su internet abbiamo tutti i problemi derivanti dalla da da internet stessa quindi la la rete 5G ovviamente eh si concentra su se stessa non sul anche risolvere i problemi di internet però ne parleremo tra po' ultimo ma non ultimo il massive machine type communication massive machine type communication è il tipico esempio di eh internet of things ora se qualcuno eh aveva sentito il supporto all'internet of things offerto dalla rete LTE questo si chiamava NBIOT eh narrow band internet eh grande esperimento eh lasciatevelo dire da qualcuno che ci ha lavorato con l'NBIOT ehm anche dal report delle delle aziende telecomunicazioni sostanzialmente funziona male funziona ma non funziona così bene ecco il 5G è orientato a quel servizio all'IOT si sta parlando di tutti quei sistemi di eh praticamente sensoristica diffusa sul territorio in maniera praticamente a pioggia eh in questo caso non abbiamo l'ultra reliable non abbiamo neanche la latenza eh bassissima non abbiamo neanche la una banda così elevata ma abbiamo delle ehm dei consumi da parte dei device praticamente inesistenti dove per praticamente inesistenti si intende il fatto che eh la migliore tecnologia attualmente disponibile a basso eh a bassa energia per la trasmissione long range che potrebbe essere l'ottocento due quindici quattro piuttosto che il LoRa o il Sigfox bene sembreranno delle tecnologie ad alto consumo eh e una eh quantità di device supportati per chilometro quadrato che è quello che si diceva prima eh centomila un milione di device per chilometro quadrato ovviamente non parliamo dei wifi wifi è è è è la tecnologia sbagliata eh per il l'IOT la tecnologia che si usa adesso perché è il meglio che abbiamo ma eh non è la tecnologia adatta quindi target di mercato ovviamente tutte le smart city le smart home perché eh oramai non abbiamo più niente di dump è tutto smart ma anche eh il i lettori del la lettura delle dei metering delle utilities anche se questo in realtà va a fa cazzotti poi con la normativa nazionale ed europea sulle tipologie di reti che bisogna usare per particolari metering va bene non possono stare eh tutta la parte di wearable fitness ma anche i sensori eh di eh che uno può portare a casa per per il il l'e-health eh tutta la parte di remote sensoring attuator per cui per esempio il ehm il precision agriculture eh cioè l'agricoltura di precisione eh il monitoraggio degli impianti industriali in questo caso non per l'industria automation ma per il monitoraggio passivo ma anche tutta la parte di logistica eh eh tutta la parte di logistica cioè il l'object tracking se voi volete fare il tracciamento di un oggetto dall'assorgente fino al destinatario ecco l'em il l'M il Massive Machine Type Communication la fa da padrona sostanzialmente perché si sta parlando di dispositivi a bassissimo costo a bassissima eh consumo energetico che possono essere eh applicati all'all'oggetto da tracciare eh ora detto questo che sembrava quasi una eh pubblicità del 5G torniamo col piedi per terra e eh domandiamoci il 5G ce lo danno anche adesso? Beh sì anche domani mattina se uno vuole esce fuori anche anzi oggi pomeriggio va dal dal dall'operatore si compra il cellulare 5G ottiene quello che abbiamo appena visto? Ce l'abbiamo? la la questa velocità questa banda spaventosa questa latenza microscopica eh la copertura eh la copertura va tutto bene? risposta no non ce l'abbiamo non ancora perché perché eh per quello che vi dico adesso cioè per un problema di roll out eh ma vorrei ricordare vorrei stressare una cosa non pensate al 5G come a un 4G più veloce sì è un 4G più veloce ma l'obiettivo di mercato del 5G la potenza del 5G la l'utilità del 5G non sta nell'avere un cellulare con cui sostanzialmente guardi gattini su Facebook più velocemente non è quello l'obiettivo l'obiettivo del 5G è l'accent mobile broadband l'MMTC l'ultra l'ultra reliable latency cioè servizi innovativi servizi nuovi ora perché dico che non ce l'abbiamo ancora perché il 5G esattamente come per il 4G va avanti per release così come quando è uscito l'LTE funzionava sì c'era scritta l'LTE sul cellulare ma non era l'LTE advanced cioè era un 3G e mezzo non era un 4G così dovete aspettarvi il fatto che quando sul vostro cellulare ci sia scritto 5G in realtà non sia il 5G sia una sorta di 4G e mezzo e questo è dovuto a che cosa? Beh sostanzialmente al fatto che lo standard è in evoluzione lo standard è in evoluzione scusate mi rendo conto che sto andando lungo quindi accelero un attimo lo standard è in evoluzione e ci sono diversi punti su cui uno deve mettere il dito diverse piaghe su cui uno deve mettere il dito la prima è lo spettro delle frequenze perché non è che uno ottiene una velocità inumana così magicamente ottiene una velocità inumana perché ha della banda in più, ha delle frequenze in più le frequenze del 5G sono sostanzialmente di tre grandi blocchi una è intorno ai 3-6 3-6 è sostanzialmente la stessa banda dell'LTE quindi è una banda ben conosciuta la banda su cui abbiamo un buon know-how sulla tipologia di copertura e sul modo di propagazione del 5G che sostanzialmente ci copre indoor e outdoor anche con coperture abbastanza ampie cittadine, fuori città eccetera eccetera ma abbiamo altre bande molto interessanti una è quella a 26 GHz che ci dà una banda enorme ma ha un difetto è vicino allo spettro di assorbimento dell'acqua ora noi personalmente i virzuni noi siamo dei sacchi di acqua salata quindi il problema del 26 GHz è che basta avere di fronte qualcuno dare le spalle all'antenna e il vostro cellulare non prende nulla sui 26 GHz serve la linea di vista serve di poter vedere che il terminale veda l'antenna però abbiamo una banda spaventosa sono in fase di studio le frequenze ancora più alte quelle tra i 50 e i 70 GHz e queste saranno principalmente per comunicazioni punto punto altro punto dolente il modello di rete cioè la core network del 5 G ora la core network del 5 G per abilitare i servizi soprattutto quelli ultra reliable o latency deve essere aggiornata la core network target del 5 G è una core network basata principalmente su tecnologia software defined networking bello ma se voi pensate che dall'oggi al domani la core network venga tirata giù e ricreata dall'operatore scordatevelo il 5 G si basa su un roll out incrementale che prevede che i primi servizi 5 G saranno offerti attraverso una core network la stessa core network del 4 G stiamo parlando della vecchia core network del 4 G che aveva problemi di inflessibilità e di alta latenza alta nei confronti rispetto all'ultra reliable è il cosiddetto modello non stand alone cioè l'uso della core network del 4 G per la trasmissione del 5 G quindi frequenze e tecnologia di trasmissione dei dati in aria del 5 G ma con la core network del 4 G questo taglia completamente le gambe ai servizi ultra reliable per esempio e non implementa il network slicing perché anche il network slicing è fondamentale per il network slice è fondamentale avere la core network 5 G cioè la cosetta stand alone quando avremo queste cose? questa è la domanda a proposito io vi sto parlando del network slicing cos'è il network slicing? network slicing è quella tecnologia che mi permette di sostanzialmente partizionare il sistema la trasmissione dati in base all'utente non all'utente finale all'utente che ha il terminale no no al virtual mobile operator abbiamo tre tipi di quattro tipi di slicing i primi due sono sostanzialmente molto tradizionali sostanzialmente chi vuol fare lo slicing si prende un pezzo o di frequenze o di antenne da parte dell'owner dell'infrastruttura ma gli altri il resource unaware slicing e lo slicing with shared resource sono tecnologie che ci permettono di fare micro mobile network operator basati su servizi singoli per esempio in teoria con questo modello uno potrebbe andare dal operatore di rete e dire guarda vorrei uno slice di network soltanto su Prato e provincia per fare il massive machine type communication per le aziende del tessile di Prato bene è possibile è possibile e ti danno anche delle garanzie a seconda del tipo di slicing che uno compra con a seconda del se uno vuole avere delle risorse garantite quindi dei tempi di latenza o delle quantità minime di utenti servibili eccetera tra il resource unaware slicing e lo slicing with shared resources questo diventa potentissimo dal punto di vista del soprattutto dei consorsi dei gruppi di aziende che magari vogliono avere il proprio tipologia di servizio o andare a comprare un servizio garantito da parte dell'operatore perché l'operatore può riservargli una parte di risorse cosa che prima non era possibile prima se voi andate dal network operator attualmente e gli dite voglio comprare 100.000 sim queste 100.000 sim sono in concorrenza tra virgolette come servizi con tutte le altre che l'operatore ha con il network slicing voi avete delle garanzie di servizio su quelle sim questo è importante ora diffusione del 5G nei punti dolenti la diffusione del 5G quello che dicevo prima diffusione nel senso di copertura hanno fatto le analisi delle coperture del 5G questi sono i risultati per gli network operator americani che già ce l'hanno queste due sono un po' vecchiotte sono del 2019 erano subito quando quando il sistema era in fase di roll out questa qui viceversa l'ho tirata fuori ieri sera quindi direi che la cosa non è cambiata le macchie scure che vedete sono quelle che gli operatori chiamano 5G Ultra Wideband alias la copertura a onde millimetriche quella a 26 GHz come vedete vengono coperte soltanto le direttrici stradali perché? perché i 26 GHz non penetrano i muri non abbiamo copertura indoor e non abbiamo neanche una copertura sotto un albero quindi sì possiamo fare alcune cose ma non tante uscito da questo dobbiamo andare sulla copertura 5G tradizionale cioè quella con la banda 3-6 che però ha una latenza e soprattutto una latenza scusatemi la latenza è soprattutto dovuta alla core network ha una banda paragonabile a quella del 4G quindi attenzione a farsi a farsi venire le cattive idee sul a il 5G ha una banda spaventosa avrà una banda spaventosa in determinati punti e in determinata con determinate necessità di coperture la buona notizia è che col 5G vengono riproposte le coperture a microcelle e a hotspot quindi se uno vuole una copertura ad altissima velocità in una zona particolare è possibile l'operatore in teoria ha questi device che può posizionare in punti particolari ultimo non ultimo per chiudere sono già mezzogiorno e mezzo in teoria dovevano essere un'ora con domande vi do un glimpse noi eravamo anche partner tra l'altro con anche alcune delle persone che sono presenti oggi della sperimentazione 5G area 2 Prato vi ricordo che in questa sperimentazione che è andata molto bene devo dire sono stati analizzati diversi use case del 5G tra cui quelli della sensoristica dei sensori IoT di cui parleremo per la parte di cosa sono i sensori IoT e l'industria IoT in altri seminari ma sostanzialmente abbiamo verificato per concentrarsi sulla parte 5G in particolare al macrolotto 1 di Prato impianto depurazione delle acque in macrolotto 1 di Prato quindi stiamo parlando di Gida il fatto dell'uso del 5G per la remotizzazione di un impianto industriale senza voler dilungarsi però sostanzialmente abbiamo fatto tutta la remotizzazione dell'impianto basandosi su quello che c'era attenzione quindi a bassissimo costo non è che abbiamo andati a rimettere tutta la sensoristica sull'impianto ma abbiamo preso i sensori che già c'erano anche io che funzionavano bene grazie a SSE perché erano loro li abbiamo presi li abbiamo ribaltati tutti quanti su piattaforme web based attraverso l'uso del 5G quindi bypassando internet e andando tutto quanto in 5G risultato ottimo funziona tutto perfettamente il il risultato è stato quello sostanzialmente di dimostrare che col 5G potete prendere un impianto industriale anche dove non c'è una copertura di rete fissa esistente o dove la copertura di rete fissa non è sufficiente oppure alternativamente andare a prendere un impianto industriale dove i sensori sono di difficile piazzamento perché magari è complicato stendere cavi per terra perché magari ci sono i muletti e la macchina è al centro del dell'impianto industriale e dovreste sensorizzare quella macchina però non c'è possibilità e abilitarla alla alle tecnologie di industria 4.0 con costi sostanzialmente passi ripeto attenzione perché poi c'è un problema di disponibilità dei device che anche questo è un altro punto dolente del 5G nel senso che allo stato attuale i device che noi abbiamo del 5G i device normali sono device ancora abbastanza grossi sono device del form factor tipici di un cellulare mentre in prospettiva i device massive machine type communication sono degli oggetti saranno degli oggetti tali per cui ecco ora non si vede un dongle USB dovrebbe contenere già tutto tra batteria antenne chipset nano sim eccetera 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 quindi stiamo parlando di device a bassissimo costo e ad alta efficienza again sono disponibili domani mattina no? dobbiamo aspettare gli integratori dei chip però le soluzioni funzionano di già erano di che erano di erano Grazie a tutti